Belgrano, Bellomo, Bellotti, Carrero, Caso, Cataneo, Cataneo, presenza di problemi con lavoro, Cataneo, Cavalleri, Kurtaz, Davide, presente, buongiorno a tutti. Ghisolfo? Presente. Grasso? Presente. Logiacco? Presente. Cente? Presente, buon dito. Macchi? Presente. Maione? Presente. Marziano? Dovrebbe collegarsi. Esatto, dice che ce la farà, pensa per le 2.20. Benissimo. Massera? Presente, buongiorno a tutti. Palomba? Pontillo? Presente. Romanengo? Presente. Susi Olivieri? Susi Olivieri? Presente, presente. Tatulli? Zanoni? Zanoni? Ti vedo. Presente, buongiorno a tutti. Allora, richiamo quelli che non mi risultano presenti. Belgrano? Bellomo? Bellotti? Marziano viene pintato, lo sapevamo. Palomba? Va bene, possiamo cominciare. Comunicazioni. Allora, il consigliere Curtaz ha comunicato l'uscita dal gruppo consigliare in linea condivisa e il passaggio al gruppo misto. Quindi, l'invito è ai presidenti di commissione a prenderne atto e a consiglio tutto, perché riboduleremo chiaramente la presenza di commissione e del gruppo. E quindi, nulla, questa è una presa d'atto. Per consigliere Curtaz, se vuole dire qualcosa, do la parola al consigliere. No, grazie presidente. Sono scelte politiche, personali, che mi vedono a fare questa lususione. Non c'è altro da aggiungere. Grazie. Benissimo. Grazie, consigliere. E poi? Buongiorno, scusate, mi sono riuscita a collegarmi solo ora. Sì, allora, consigliere Belgrano è arrivata, benissimo. Io, scusatemi, Paola Dellotti. Buongiorno, consigliere, ok? Benissimo. Allora, mancano praticamente Bellomorita, che richiamo. Bellomorita, niente. Le Marziano, Daniela, Palomba, Vincenzo. Vabbè, se arrivano, li recupereremo. Quindi, le nuove commissioni sono a disposizione. La nuova composizione, non le sto a leggere perché immaginerete. Comunque, sono qui, quindi, se volete, potete averle. Dunque, abbiamo delle interrogazioni a risposta immediata. Vediamo poi, mi pare che ci sia la dottoressa Gallo, però, collegata. Sbaglio? Sì, no, la vedo. Sì, ci sono, Presidente. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Ho due espressioni di sentimento. Allora, espressioni di sentimento, consigliere Di Zolfo e consigliere Di Zolfo. Consigliere Di Zolfo. Grazie, Presidente, ma sarò breve. La racconterò anche in maniera ironica, perché se non ci sarebbe sempre da piangere. C'era una volta un giovane consigliere municipale di 34 anni, biondo scuro, occhi azzurri. Ogni riferimento al consigliere Di Zolfo è puramente casuale, il quale scrive ad un assessorato del Comune per avere informazioni circa una pratica su richiesta di un cittadino. L'assessorato risponde anche velocemente in un'oretta e mezza, quindi molto positivo. Il consigliere Di Zolfo nota nel link che gli viene trasmesso che mancano della documentazione degli ultimi anni, vedendo che quella pagina del sito era aggiornata al 2019. Il consigliere Di Zolfo chiede, conosce quel tipo di pratica, ma con il Covid in mezzo chiede, ma c'è un motivo tecnico per il quale mancano la documentazione anni 2019-2020? L'assessorato dice, guarda, su questa cosa devi chiedere a quest'altro assessorato, sono molto precisi, inoltre non la richiesta a loro, vedo che al pomeriggio l'altro assessorato non mi risponde, io faccio una mail, zero. Il primo assessorato nota che faccio una mail, quindi sollecita anche lui il giorno dopo. Il giorno dopo, risolecito anche io, arriviamo da lunedì, quando è iniziata tutta questa tiritera, al mercoledì mattina, quando il consigliere Di Zolfo telefona direttamente al secondo assessorato, dove informo, e dipende di guardate che è arrivata questa mia mail, avrei bisogno di sapere come mai non ci sono queste documentazioni. Al che, mi si chiede ai cellulari, quando guardate, scrivetemi sulla mail, perché a parte il fatto che io lavoro, quindi non posso distogliere del tempo dal lavoro, più che altro se mi scrivete, io mi rimane traccia, so cosa devo dire al cittadino che mi ha chiesto. Scopro che poi viene ulteriormente inoltrata questa mail a un'ennesima persona, quindi io penso che siamo arrivati a 5-6 mail, o anche 7 nel totale, ho perso il conto. Arriviamo a mezzogiorno l'una, poco prima di capigruppo ufficio di presidenza e terza commissione congiunte di mercoledì, dove chiamo alla fine questa ennesima persona e dico, guarda, guardi, mi scusi, dottor Di Zolfo, consigliere del centro-est, su queste documentazioni, dice, ma no, c'è tutta sul sito, ma guarda, è vero che ho 34 anni, ma un sito lo so leggere, la roba non c'è, non c'è. Casualmente la mia mail era aperta, apro, vado su link e scopro che il sito era stato aggiornato al giorno prima. Ora, il dico, se mi prendevano tutti per i fondali, non ho usato questo termine, ho usato un termine ancora un po' più, come dire, chiaro, che ovviamente non posso ripetere qua in consiglio municipale, dico, ma scusate, io vi scrivo un'edì, vi dico che la roba non c'è, mi fate fare i giri delle mail e poi scopro che aggiornate il sito, giustamente, perché è giusto che l'ha aggiornato, ma mi prendete tutti quanti in giro. Finisco poi la commissione, vado in ufficio, recupero i link per rispondere al cittadino, scopro che viene ulteriormente aggiornato al giorno medesimo. Ora, io ho 34 anni, sono giovane, ho una laurea in legge, quindi ho studiato certi meccanismi, ho la fortuna, il privilegio e l'onore di essere un eletto, quindi capisco certi meccanismi, però io mi domando, come può, io penso la signora Maria, mia nonna ad esempio, che ha 83 anni, ha la licenza elementare, fa fatica a usare un cellulare, perché comunque è di un'altra generazione, come si pretende che una persona normale stia dietro a tutta questa attività? Io mi dispiace, la trovo una cosa imbarazzante, si dice tanto di noi politici, ma la soluzione dei tecnici non mi sembra che abbia risolto tutti quanti i problemi, quindi io chiedo, ringrazio ai dipendenti che lavorano seriamente, ma questa l'ho voluta raccontare come barzelletta, perché poi, se no, ripeto, sarebbe da piantici addosso, però non è possibile che un sottoscritto che sa destreggiarsi ha avuto per tre giorni per avere una risposta e l'ha avuta solamente perché è un consigliere, e mi domando un cittadino normale cosa avrebbe ottenuto. Grazie. Grazie, consigliere Olivieri. Buongiorno Presidente, buongiorno colleghi, io ho chiesto ancora una volta un'espressione di sentimento per poter portare ancora una volta la solidarietà ai nostri agenti feriti dalla Polizia Locale, per chi non lo sapesse, l'altro ieri, a seguito di un'intercettazione, di un arresto che doveva essere fatto per sostanze, vendita di sostanze stupefacenti, sono stati presi a bottigliate dai loro, dal connazionali dell'arrestato. Quindi abbiamo come fine della storia tre agenti feriti portati al pronto soccorso, che sono riusciti comunque a contenere i danni grazie alle dotazioni date dal nostro assessorato, quindi dai busci protettivi. Che dire di più? Credo che se dovessimo andare a fare l'elenco di tutti i consigli municipali svolti finora, c'è un'espressione di sentimento di Olivieri, di solidarietà alle forze dell'ordine, aggredite durante le proprie funzioni. Io non mi stancherò di farle, perché ritengo che sia doveroso nei confronti dei nostri agenti portare la nostra personale solidarietà e ancora una volta spero che i miei colleghi tutti si uniscano a questa mia espressione di sentimento. Grazie. Grazie consigliere Olivieri. Allora, ho delle risposte a delle interpellanze, che sono delle interpellanze di consiglio. Due che leggeranno la sessore Grasso e una io sul discorso di interpellanza fatta sul Comitato Giornate di Genova. Che è un atto del Consiglio del 10 maggio. Gentile Presidente, innanzitutto sottolineo come l'amministrazione comunale in questi anni non facili abbia. Grazie al vostro supporto fatto sì che la giornata di Genova venisse celebrata e portata a conoscenza la comunità genovese. Senza il vostro fondamentale supporto non saremmo riusciti anche nell'anno del Covid a dare il giusto e dovuto risalto a quanto da voi proposto. Entro la fine di questo mese si procederà alla formalizzazione di quanto da voi richiesto al fine di dare compimento completo alla giornata di Genova, che sono certa ci vedrà collaborare anche per questo 2021. Questa è un'interpellanza del Consiglio sulle giornate di Genova, che era un atto votato credo oramai tre anni, due anni fa, due anni e mezzo fa. Ci voleva sapere che finavano fatto questa la risposta dell'assessore Bottilli. Assessore Grasso, prego. Allora, rispetto invece alla risposta dell'interpellanza avente d'oggetto Chiazza Vacchero, in risposta all'interpellanza furtata il 30 giugno, c'è pervenuta risposta dell'assessorato all'urbanistica. Buongiorno, di cui do lettura. Poi ne daremo anche magari una coppia al Consiglio Ligieri così che l'abbia anche per iscritto. Buongiorno, in riferimento all'interpellanza 44, Piazza Vacchero, presentata al Consiglio Municipale del 30 giugno 2021, come riportato nell'interpellanza, il tema è stato affrontato anche dal Consiglio Municipale nel 2017 e riguarda il degrado della vasca monumentale, della colonna infame e della sosta delle persone durante l'intera giornata. Questo è il virgolettato ripreso all'interpellanza. Gli ultimi restauri effettuati dovrebbero risalire agli anni 90 e forse c'è stato un ulteriore intervento in occasione del 2004 a Genova Capitale della Coltura. Fontana e colonne infame sono stati oggetto di intervento nel 24 aprile 2021, quando l'Associazione di Via del Campo, in accordo con la sovrintendenza, ha fatto mero intervento di pulizia generale, tranne la parte alta della fontana in quanto non accessibile facilmente. per il tale intervento servirebbe l'utilizzo di un cestello. Durante il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi la situazione sembra migliorata. I monumenti risultano anche illuminati da grandi corpi illuminanti sul lato di Via del Campo. Comunque, il progetto Caruggi, piano integrato per il recupero del centro storico, contiene espressamente al suo interno una voce specifica che riguarda l'oggetto dell'interpellanza, trattandosi di punto simbolico e turistico del centro storico. Il progetto prevede 1. Un intervento di restauro dei due monumenti e dello spazio aperto circostante, quindi vasca e colonna, compresa l'implementazione dell'illuminazione nella parte retrostante della fontana e la collocazione di almeno due telecamere sui due lati. Secondo, un incremento del controllo della piazza e quindi della polizia. Quindi l'urbanistica rimane a disposizione per ogni chiarimento. Ci chiarisce come sarà un intervento più generale di controllo e polizia, ma quello che va a rilevare maggiormente nella risposta è un intervento di restauro previsto nel piano Caruggi, nel piano sul centro storico, dove si va a prevedere appunto il restauro dei due monumenti, dello spazio circostante e l'implementazione dell'illuminazione e nonché la posizione in due telecamere. Quindi, ecco, diciamo un intervento piuttosto ad ampio raggio e che, per meno per quanto riguarda la giornata, riteniamo che se si andrà in tal senso e verrà concretizzato in tal senso sia ampiamente soddisfacente. Ok, poi abbiamo l'altra risposta. Posso ringraziare l'assessore? Dire che sono soddisfatto di questa risposta, presidente. Prego, signor Rivieri. Volevo ringraziare. È una cosa che mi rende molto contento, molto felice, e non vedo l'ora che si inizi il tutto. Grazie. Perfetto. Allora, adesso abbiamo invece la risposta su Via Boine e la parola della testa del Graffo. Ok, allora, sull'interrogazione del Partito Democratico rispetto alla questione Via Boine, in realtà mi permetto di fare una risposta generica che avvolge un po' tutte le interrogazioni e le mozioni che riguardano aspetti legati alla mobilità. è stato oggetto anche di un confronto del Presidente di Giunta, anche con il Presidente della Sede Giunta e con il nostro direttore. Differentemente da altre mozioni, le interrogazioni, interpellanze o mozioni, avendo d'oggetto temi di mobilità che non siano il mero intervento di ripristino che allora viaggia su un canale praticamente automatico e non necessita di alcuna procedura, di alcun atto amministrativo, ogni nuova istituzione invece richiede di ridefinizione di stalli, installazione di nuovi paletti, installazione di specchi parabolici, ogni cosa inerente alla mobilità che riguarda la nuova installazione necessita che venga recepita in un'ordinanza dirigenziale della direzione mobilità. Per questa ragione, quello che, tranne alcuni, con le sue viabilità secondarie che poi si ricorre a un'ordinanza in sala del municipio. Quello che vado a rispondere è questo che abbiamo definito come tutte le mozioni di internazioni e interpellanze da ora in poi verranno trasfuse in atti di giunta, in quanto la direzione mobilità per poter dar seguito a un'ordinanza, oltre alla mozione che è un atto di indirizzo politico che contiene un'impegnativa, necessita che questa impegnativa venga trasfusa in un vero e proprio atto diciamo decisionario, non più di mero indirizzo politico, quindi una decisione di giunta con cui si impartisce in qualche modo non un comando ma un'indicazione alla direzione mobilità di procedere alla stesura di un'apposita ordinanza. Quindi rispetto a Via Boine quello che possiamo dire è che l'estrazione di nuove di sfasori su Via Boine seguirà questo stesso percorso, quindi la portere la trasformeremo in un atto di giunta così che poi possa avere avvio l'iter per la stesura dell'ordinanza e la conseguente trasmissione dell'ordine dei lavori ad Aster. Questo è l'aggiornamento che vi posso dare per il tema aggiornando anche sulle rispettive tempistiche degli interventi. Bene, fesso. Bene. Allora, intanto per la segreteria di D'Antico Sere Palomba che si è di questo Consiglio di Orba e allora procediamo con la nomina degli sfruttatori Flaminio, Palomba e Olivieri no, va via Olivieri e via Carrero allora Flaminio, Palomba e Carrero e andrei subito al punto 3 la proposta di giunta al Consiglio recante modifiche e regolamento a disciplina di criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni contributi e osili finanziari comunque denominati per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone interpubblici privati nonché per la concessione del patrocino da parte del Comune relativamente all'accessibilità dei diventi patrocinati all'amministrazione comunale è richiesta di parere del senso articolo 59 come 1 lettera C e 60 il vigente regolamento per il decentramento e partecipazione al municipale intanto ringraziando la dottoressa Gallo che è già presente e in attesa poi dell'assessore dare un attimo la parola al presidente romanico che darà già due diciamo dritte per come i capigruppo hanno pensato riportare avanti la successiva discussione presidente romanico perfetto grazie a tutti mi scuserete la telecamera spenta ma sono in campagna e già la connessione è molto a rilento cercherò di essere più chiaro possibile ma prima di tutto presidente penso che la dottoressa Gallo sia qui a riferire in merito al regolamento sulla privacy mentre per quanto riguarda il regolamento a momenti di discussione dovrebbe esserci la dottoressa l'assessore rosso conviene forse invertire l'ordine del giorno e cominciare dal regolamento sulla privacy mi dica lei benissimo questa è la proposta del presidente della commissione siamo tutti d'accordo invertirei i punti assolutamente qualcuno chiede intervenire su questo bene quindi invertiamo pure i punti grazie presidente grazie a lei allora in capigruppo si è pensato di svolgere le discussioni dei due dei due regolamenti facendo sì che vi sia una possibilità di intervento da parte di ciascun consigliere del tempo massimo di tre minuti con il quale può porre osservazioni o domande agli intervenuti in consiglio ovvero alla dottoressa gallo e poi all'assessore rosso poi vi sarà ovviamente la replica dell'assessore della dottoressa gallo e poi potrà essere da parte di ciascun consigliere per il tempo massimo di un minuto una controreplica in modo tale da gestire la discussione nella maniera più efficace possibile introdurrei dunque l'argomento specificando che se per il regolamento relativo alla concessione dei patrocini vi è stata una precedente discussione in commissione sulla base delle quali poi si sono anche formulate delle osservazioni per quanto invece riguarda il regolamento sulla privacy di carattere decisamente più tecnico e che alla fine tratta si correggerà la dottoressa gallo di un adeguamento di legge su questo non vi è stata particolare discussione in commissione quindi siamo qui e chiederei forse innanzitutto alla dottoressa gallo di fare una breve introduzione sul regolamento stesso e poi successivamente vi saranno eventuali osservazioni da parte del consiglio grazie presidente romanengo dottoressa gallo grazie grazie presidente buongiorno a tutti come diceva il consigliere romanengo il il regolamento della privacy è un adeguamento se vogliamo normativo rispetto alla disciplina introdotta dal regolamento europeo 679 del 2016 entrato in vigore nel 2018 il regolamento il comune di genova si era già adottato di due regolamenti della privacy uno contenuto all'interno del capo quinto del regolamento sul procedimento amministrativo e l'altro riguardava il trattamento dei dati giudiziari e sensibili entrambi questi due regolamenti comunali sono superati e quindi è stata fatta la scelta di abrogare completamente questi due regolamenti e di formare un regolamento nuovo dedicato interamente alla tutela dei dati personali che è una dizione più ampia rispetto alla tutela della privacy perché non si tratta solo di tutelare la riservatezza delle persone ma si tratta proprio di tutelare i loro diritti e libertà personali attraverso la tutela dei propri dati personali e inoltre si tratta di proteggere il comune da una serie di rischi connessi al trattamento dei dati personali che vanno dal blocco totale delle attività a causa dell'intrusione di qualche soggetto indesiderato all'interno della rete comunale alla possibilità di essere chiamati in giudizio per esarcire dei danni provocati ai soggetti interessati e infine alla possibilità di essere colpiti da una multa del garante della privacy che può arrivare a cifre molto alte in questi giorni per esempio il garante ha erogato una sanzione di 800.000 euro al comune di Roma capitale per un trattamento inadeguato rispetto ai parcheggi e alle targhe degli autoveicoli quindi tutto un complesso questo regolamento che si propone oggi è un regolamento se vogliamo di organizzazione nel senso che detta delle disposizioni prevalentemente agli uffici è un regolamento rivolto più agli uffici che non alla collettività dei cittadini proprio per evitare il più possibile questo tipo di rischi in questo momento io vi sto parlando come DPO cioè Data Protection Officer incaricata dal sindaco per il comune di Genova al contempo sono anche direttore di un municipio in particolare il municipio 9 e per questo vorrei rassicurare sul fatto che questa regolamentazione non impatta in maniera particolare sui procedimenti del municipio se non nella stessa misura in cui impatta sull'organizzazione di tutti gli altri uffici e direzioni del comune il regolamento si sofferma in particolare su tutti quelli che sono i soggetti che all'interno dell'amministrazione trattano i dati delle persone e che sono in particolare il titolare del trattamento il titolare del trattamento è il comune di Genova come amministrazione nel suo complesso che decide la finalità del trattamento dei dati personali naturalmente essendo un ente collettivo lo deciderà attraverso gli atti suoi propri cioè le delibere le determine il sindaco è il legale rappresentante del comune anche ai fini privacy e poi delega ai dirigenti tutti quelli che sono gli adempimenti e la custodia delle singole banche dati che sono nella loro disponibilità per gestire le pratiche di propria competenza una modifica in particolare riguarda la nomina dei responsabili esterni i responsabili esterni sono quelle organizzazioni che il comune incarica attraverso un contratto di svolgere un servizio o direttamente a favore dei cittadini oppure a favore di una direzione e di un servizio municipale il responsabile esterno del trattamento è disciplinato dall'articolo 28 del regolamento privacy che dice appunto che il titolare del trattamento che resta poi responsabile di ciò che il responsabile esterno fa dei dati che gli sono dati in consegna è responsabile per eventuali danni che provochi all'esterno quindi è molto importante che questa nomina sia dettagliata che intanto il soggetto che viene incaricato sia scelto con particolari requisiti di affidabilità e che poi gli siano date delle informazioni corrette su come gestire i dati al termine poi del trattamento questo soggetto dovrà o restituire secondo le disposizioni del comune dovrà o restituire i dati che gli sono stati affidati oppure dare prova di averli distrutti e quindi averli resi inutilizzabili fino a questo momento la nomina del responsabile esterno veniva fatta dal sindaco in qualità di legale rappresentante per ragioni di opportunità e di funzionalità si è fatta la scelta di delegare anche questa funzione ai dirigenti in quanto i dirigenti sono ai sensi del testo unico degli enti locali e del testo unico del pubblico impiego i rappresentanti dell'ente per quanto riguarda tutta l'attività contrattuale quindi essendo la nomina del responsabile esterno connessa strettamente con un'attività contrattuale è più indicata la figura del dirigente che non quella del sindaco per la scelta del contraente per le disposizioni contrattuali da dare a parte questa breve introduzione io non credo che sia il caso in questa sede di entrare nell'articolato in maniera più dettagliata resto a vostra disposizione per qualunque domanda su qualunque materia che riguarda il trattamento dei dati personali è ancora una precisazione proprio perché sono stati abrogati totalmente ed è stato il regolamento è stato riscritto in maniera completa non avete la possibilità come avviene in questi casi di esaminare un testo a fronte perché non c'è nessuna corrispondenza fra un articolo e l'altro sarebbe stato un esercizio che non aveva alcun senso pratico e poi una infine una considerazione finale che è quella che sulla base del nuovo regolamento la privacy non vede più degli adempimenti standard che vanno bene per tutti gli enti ma è stato introdotto un principio di responsabilizzazione perciò è ciascun ente che deve rivedere la sua organizzazione in funzione della sicurezza dei dati personali questa è forse la ragione per cui si è atteso parecchi mesi per rinnovare questi regolamenti perché il Comune di Genova nel frattempo ha subito diverse modifiche organizzative e quindi è stato creato un regolamento sul trattamento dei dati personali che fosse strettamente connesso alla nuova organizzazione del Comune di Genova io avrei concluso grazie dottoressa Gallo allora chiedo ai consiglieri se qualcuno chiede intervenire lo vediamo in chat con uno consigliere Lucetta la parola grazie presidente buongiorno a tutti buongiorno dottoressa Gallo l'unica domanda che avevo ho visto che nelle specifiche in qualche modo della delibera si parla di gruppi ad hoc di una trasporta ad hoc piuttosto che necessità di strumenti ora non so se ci si riferisce a software o altro proprio per questo nuovo impegno più serrato sulla privacy e vedo anche un carico maggiore insomma per quanto riguarda i dirigenti noi sappiamo a livello municipale siamo ridotti all'otto e perciò mi chiedevo lungi da me a invitare a spendere a spendere i soldi pubblici però mi chiedevo se mai vedendo appunto questi accenni di incremento in qualche modo forse anche di lavoro per gli uffici pubblici non ci fosse la necessità che so di una voce di bilancio dedicata a questa nuova funzione vista quanto siamo ridotti all'otto penso al grande lavoro che ha il suo collega Pasini e perché tanto proprio perché questa delibera come al solito recita senza oneri per l'amministrazione pubblica grazie ma in realtà io la ringrazio di questa domanda nel senso che la funzione della privacy è una funzione come ho detto prima che ha una rilevanza pratica notevole e che è una gestione scorretta ripeto può portare dei danni gravissimi all'ente sia in termini di funzionalità sia in termini economici perché oggi è praticamente impossibile gestire qualunque attività di servizi al cittadino ma anche qualunque attività di produzione di beni e servizi senza utilizzare i dati degli interessati e quindi è necessario che il Comune di Genova riveda sotto questo profilo la sua organizzazione sono previsti dei gruppi di lavoro fra persone che sono già in attività presso l'ente però è necessario che queste persone periodicamente si si vedano e mettano insieme le loro problematiche relative al trattamento dei dati personali per avere anche un'informità di trattamento fra le varie direzioni e osservare in maniera puntuale tutte le disposizioni dettate dal regolamento privacy sono previsti in particolare due gruppi il gruppo privacy che riunisce praticamente i referenti privacy di ogni direzione che già adesso esistono e sono praticamente delle persone individuate dai dirigenti che in un certo senso supportano anche i loro colleghi sulle procedure e sui dubbi che nascono quando si tratta di fare un trattamento di dati personali tenga presente che l'ufficio del dpo del comune di genova è ridotto alla mia persona che però io svolgo questo incarico diciamo a metà tempo perché per l'altra metà sono come sono direttore del municipio Levante e ha una sola impiegata quindi se non si costruisce questa rete di collaborazioni è impossibile controllare cosa fanno tutte le direzioni dell'ente e garantire che il trattamento venga fatto in sicurezza e poi abbiamo previsto il gruppo del data breach il data breach è un incidente sul sistema del trattamento dei dati che comporta o una perdita di confidenzialità dei dati stessi oppure una perdita addirittura dell'integrità del dato purtroppo non sono allora per fortuna non sono tutti incidenti eclatanti come quello che è successo per esempio alla regione Lazio per quanto riguarda il sistema vaccinale spesso si tratta di incidenti molto più semplici ad esempio mail spedite a destinatari che non le dovevano ricevere contenenti dei dati personali ad esempio la perdita di un device da parte di un assessore o da parte di un dipendente comunale altre volte si tratta di problemi più seri per esempio abbiamo avuto un programma per l'iscrizione a scuola che aveva un baco nella sua programmazione che consentiva praticamente a chi entrava nel sistema di vedere dati anche relativi ad altri utenti in questi casi la procedura prevede che si faccia una segnalazione proprio al garante e questa segnalazione nel comune di Genova viene fatta proprio per il tramite dell'ufficio del DPO il quale è il punto di contatto poi con gli uffici del garante che favorisce le comunicazioni con l'ente quindi in questo caso abbiamo previsto che sia negli incidenti più gravi che sia formato un gruppo data breach composto naturalmente dal DPO e poi dallo staff della direzione in cui l'incidente si è verificato proprio per cercare di fare correttamente questa comunicazione al garante ma soprattutto di cercare di contenere al minimo i danni provocati dall'incidente dall'incidente e studiare delle procedure organizzative o tecniche utili perché questo incidente non possa più ripresentarsi naturalmente sarebbe opportuno e in questo regolamento è stato fatto che l'ufficio del DPO avesse proprio una sua individuazione a livello di ufficio comunale perché nel regolamento degli uffici e dei servizi attualmente questa casellina è stata dimenticata perciò io banalmente ho addirittura delle difficoltà a collocare operativamente quella mia unica dipendente in una struttura comunale viceversa il DPO non la persona del DPO ma l'ufficio dovrebbe avere la sua collocazione all'interno dell'organizzazione degli uffici e dei servizi avere un suo obiettivo una sua casellina anche nel sistema del bilancio un suo PEG e dei suoi obiettivi e tutto questo nel regolamento è stato scritto adesso se il consiglio comunale approverà la discussione prevista domani questo regolamento bisognerà poi dare attuazione a queste regole organizzative 2 milioni grazie professa Carlo consiglio lucente aggiungere qualcosa qualche altro consigliere chiede di intervenire grazie presidente va bene così grazie dottore presidente Romanengo non avrei nulla da aggiungere presidente se non potrei allora cominciare banalmente con una dichiarazione di voto per facilitare le cose benissimo esprimo esprimo parere favorevole da parte del gruppo del partito democratico qualche altro gruppo chiede di esprimere il voto altrimenti metto in votazione la votazione nominale intanto saluto e ringrazio l'assessore rosso che mi sto collegata se vuole anche lei aggiungere qualcosa assessore benissimo sì vi ha già detto tutto la dottoressa gallo è una un adeguamento del regolamento che riguarda il trattamento dei dati personali a quella che è la normativa vigente il nostro regolamento era un regolamento che era del 2009 2010 insomma e la riforma del 2016 quella sulla privacy e questo non è altro che un adeguamento quindi diciamo più una riforma da un punto di vista tecnico e quindi la dottoressa è stata esauriente peraltro la dottoressa Gallo ha delle specifiche sue personali conoscenze di questo argomento e quindi direi che l'adeguamento è stato fatto in modo assolutamente corretto e legato appunto alla normativa bene grazie assessore allora chiamo carattro favorevole Belgrano favorevole Bellomo è assente Bellotti favorevole Carrero favorevole Caso Caso andiamo dopo Cattaneo è assente Cavalleri favorevole Purta favorevole Navite Davide 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 non ti sento è favorevole ok Flaminio favorevole Disolfo favorevole Grasso favorevole Logiacco favorevole Lucente favorevole Macchini favorevole favorevole Maione favorevole Marziano non ancora collegata Massera favorevole Palomba favorevole Contillo favorevole Romanengo favorevole Susi Olivieri favorevole favorevole Zanoni favorevole bene grazie allora parere unanime andiamo al punto due quindi Presidente Romanengo siamo sul punto che ho letto in precedenza sulla concessione e sovvenzione ai contributi ai usili finanziari comunque denominati attribuzioni ai vantaggi economici di qualunque genere a persone e enti pubblici nonché concessione del patrocino a parte del comune Presidente Romanengo Buongiorno buongiorno all'assessore inizio rispondendo al consigliere che ha scritto il documento delle osservazioni trasmesso meno all'assessore sia appunto il documento delle osservazioni formulate in sede di prima commissione municipale è stato trasmesso alla giunta municipale ai consiglieri e alla segreteria dell'assessore rossa direttamente alla mail dell'assessore comincerei riassumendo brevemente le osservazioni che sono state svolte in sede di prima commissione per poi lasciare direi una diciamo esposizione più approfondita ai consiglieri stessi che le hanno formulate le osservazioni si riferiscono in particolare a due articoli all'articolo 31 e all'articolo 33 e rispetto all'articolo 31 le osservazioni mirano a capire quali siano merito alle novità introdotte gli oneri che dovranno essere a carico delle singole associazioni nelle organizzazioni delle manifestazioni che è forse uno dei punti che preoccupa maggiormente in quanto ovviamente per garantire quello che è un giusto diritto ovvero quello della partecipazione di tutti quanti agli eventi si corre a rischio che alcuni eventi taluni eventi acquisiscano complicazioni ulteriori in un'organizzazione che quindi possano addirittura impedire la realizzazione dell'evento stesso perché la sua azione non riesce a farsene carico inoltre ci si chiede rispetto a quei locali di proprietà della pubblica della civica amministrazione ci si chiede gli adempimenti per garantire l'accesso a questi locali ci si chiede se in primis sono i locali della civica amministrazione talvolta a non essere raggiungibili allora si rischia di cadere un'incoerenza per cui forse sarebbe il caso di adeguare in primis i locali della civica amministrazione nel quale si tengono delle manifestazioni di carattere pubblico e spazi che possono essere utilizzati dalle associazioni e inoltre rispetto alle associazioni ci si chiede anche il carico burocratico che queste associazioni devono far fronte rispetto appunto alle novità introdotte dall'articolo 33,2 lettera A infine nelle osservazioni che comunque avete avuto tutti i modi di leggere nero su bianco vi sono state formulate diciamo ulteriori osservazioni chiamiamole suggerimenti che vengono entrambi dal gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle il primo sarebbe quello di dare una mappatura dei luoghi che oggi già sarebbero disponibili a ospitare eventi per tutti cioè senza barriere architettoniche in modo tale che questi possano essere utilizzati prioritariamente diciamo e infine ci si chiede appunto dal momento che i vicoli risulterebbero già in deroga per le barriere architettoniche come si possa contemplare questo obbligo ai benefici al patrocinio rispetto appunto a una deroga che però è stata fatta a un livello sovraordinato rispetto a quello di questo regolamento mi scuseranno i consiglieri che hanno formulato le osservazioni se queste sono da me state malinterpretate lascerei in primis la parola a questo punto all'assessore rosso per una sua introduzione e rammento le regole che appunto decise in conferenza capigruppo per cui potranno formulare osservazioni e domande all'assessore nel tempo massimo di tre minuti vi sarà poi facoltà a quel punto vi sarà la risposta dell'assessore successivamente vi potrà essere una sola controreplica di massimo tempo un minuto grazie a tutti e Presidenta lei la parola grazie Presidente Romanetti allora assessore rosso grazie buon pomeriggio a tutti grazie io purtroppo sono con questo dispositivo che non è in un posto che non prende tanto volevo salutarvi facendomi un po' vedere però devo staccare il video per poter far arrivare a tutti la mia voce lo stacco e lo riattacco quando spengo il microfono mi scuso ma è così quindi ora tolgo il video sento che io ci riesca perché è una mia incapacità ecco allora le modifiche sono quelle al regolamento sui contributi e patrocini le modifiche riguardano l'introduzione del settimo comma all'articolo 31 che si fermava al sesto comma e viene introdotto il settimo comma che recita il patricinio è concesso per iniziative e manifestazioni che si svolgano in strutture accessibili prive di barriere architettoniche o in alternativa per cui esista l'impegno degli organizzatori a garantire assistenza continua alle persone con disabilità anche avvalendosi di donne e ausili la condizione di accessibilità totale o condizionata deve essere obbligatoriamente indicata in ogni documento illustrativo dell'iniziativa al fine di favorire la più ampia partecipazione l'articolo 33 che parla dell'istanza quindi della richiesta che si fa che rimane identica per chiedere la concessione di un patrocinio al sindaco di Genova questa relazione ha tutte delle sue caratteristiche al comma 2 dell'articolo 33 alla lettera A è stato aggiunto tale relazione dovrà inoltre contenere specifiche indicazioni circa l'accessibilità delle strutture in cui si svolgerà la manifestazione o in alternativa dichiarazione di impegno a garantire assistenza continua alle persone con disabilità anche avvalendosi di donne e ausili poi le altre modifiche in realtà sono state due parole cioè abbiamo deciso di sostituire persone bisognose con persone con disabilità nell'articolo precedente perché questa formulazione si riferisce alle persone con disabilità le persone bisognose possono essere quelle anche in quel momento che ne sono un bisogno economico un bisogno personale non è questo il caso e allora il termine bisognose è stato trasformato con disabilità l'obiettivo di questa introduzione che ovviamente io ho concordato anche con la consulta della disabilità e con il suo presidente Piernovi quindi quella del comune di Genova e quella della regione Liguria con il suo presidente Pucco è una io la reputo doverosa introduzione stiamo parlando del regolamento sui patrocini quindi non a tutti gli eventi ma gli eventi per i quali viene richiesto il patrocino del comune di Genova sia a titolo gratuito che con una corrisponsione economica quindi a entrambi i casi quello che deve succedere è che che avvenga un pensiero una considerazione alla circostanza che il luogo dove avviene un evento col patrocino del comune di Genova devono essere il più possibile accessibili a tutti la disabilità è una situazione che non programmiamo come mi ha detto la prima volta che ho iniziato a occuparmi di questa materia perché è stata una mia delega mi ha detto il presidente Piernovi è una condizione che può capitare a chiunque sia per periodi limitati tipo si rompe una gamba o a uno a una di schiena particolare sia purtroppo per tutta la vita lo reputo quindi una situazione di tutti i cittadini di Genova e allora se è così è necessario che questi eventi che nella relazione mi sentite mi sentite pronto sì e che nella relazione vengano indicate l'attenzione che si pone a chi non può raggiungere con le proprie gambe il luogo dell'evento non per questo tutti gli eventi dipende anche da evento evento io faccio sempre questo esempio se devo andare a fare la gara campestre sono la prima a non andarci perché non sarei in grado a farla magari 5.000 km a piedi però posso magari arrivare al traguardo dove poi verrà premiato che ne so un mio figlio che l'ha fatto ecco c'è un'attenzione a questo e specificare perché ovviamente l'evento è diretto sicuramente a persone che non hanno una disabilità ma si creano le condizioni per cui la persona con disabilità cioè si cercano di creare il più possibile infatti avrete notato quando ho letto e ci tengo a leggere le due integrazioni proprio perché vi renderete subito conto che sono molto ampie non c'è una specificazione di quello che si chiede prima di tutto perché gli eventi possono essere i più svariati secondo perché non tutti possono essere accessibili ai disabili però allora bisogna dare una spiegazione cioè aver tenuto conto di questo aspetto sono stata un po' di mesi fa un evento dove il traguardo della fine di questa gara era in cima a una scala farlo in fondo alla scala al traguardo non comportava nessun problema eppure è stato fatto in cima a una scala vuol dire che dentro di noi nessuno di noi ha voglio dire vuole escludere chi è su una carrozzina però vuole dire proprio che ci manca questa attenzione questo che viene previsto deve servire a a questo a creare una sensibilità nostra automatica senza limitare i tipi degli eventi senza limitare chi può partecipare o meno all'evento ma specificando se non è possibile che i disabili lo raggiungano anche tramite degli ausili che possono essere anche ausili tecnologici come quello che stiamo utilizzando in questo momento per raggiungerci e quindi magari prevedere se l'evento si trova in un castello perché la presentazione di un libro particolare su una fiaba e la si vuole fare dentro un castello magari non ci sono gli ascensori o le strutture per raggiungere il piano dove deve essere fatto questo evento per lo meno che all'ingresso vengano previsti dei video dove chi è al piano di sotto può comunque partecipare visivamente a quello che succede al piano di sopra oppure se si parla di una persona che cieca la possibilità che ci sia un volontario dell'associazione che accompagna il cieco al piano di sopra perché magari bisogna fare una scalinata ecco sono piccole cose ma che guardate vi dico io ora mi sto occupando di questi patrocini quindi mi arrivano le richieste sui patrocini anche le associazioni che si occupano di disabilità in queste richieste che poi sono dei moduli che vengono compilati in pratica mai indicano che cosa hanno fatto che cosa hanno previsto che cosa pensano per rendere quel evento accessibile a tutti un'altra cosa cioè se viene fatto un volantino di divulgazione indicare cosa si è fatto e se è possibile che che questo che questo evento diventi accessibile anche chi ha una carrozzina chi non vede perché la cosa peggiore per il disabile mi raccontava Piernovi è quella di arrivare all'evento e non poter entrare e non poter partecipare quindi ha fatto tutta la strada per arrivarci ma poi si trova davanti un muro questa è la cosa peggiore è meglio non andarci sapere come si svolge in modo da decidere se andare oppure no e questo nella relazione deve essere previsto su queste basi Genova dà il patrocino perché Genova è una città dove chiunque vuol partecipare a un evento della sua cittadinanza deve partecipare e nel miglior modo possibile l'altro giorno sono stata al al porto antico al concerto di ladri di carrozzelle è una band di disabili che hanno dove la cantante è su una sedia a rotelle e canta bellissimo una voce pazzesca anzi vi invito a sentirla perché su Rai2 ogni mattina loro partecipano a un programma e quindi suonano e cantano e a quel concerto quindi era organizzato dalla Wilm che è proprio l'associazione per la un'associazione per coloro che sono malati di sclerosi multipla a un certo punto la presidente che era di Cinoamerica riceve una telefonata che una ragazza in carrozzella che voleva partecipare all'evento si era rotta la carrozzina ed era lì era al porto antico quindi un posto assolutamente accessibile a tutti all'esterno però non riusciva a raggiungere il luogo perché si era rotta la carrozzina la presidente mi ha detto guarda assessore non abbiamo previsto due carrozzine qua di sostituzione se servisse ora con questa storia che lei nel patrocinio chiede una relazione ci verrà in mente di metterlo e lasciare diciamo alla fantasia lo dico in senso positivo degli organizzatori di eventi anche un pensiero e un'idea di come poter raggiungere il più possibile perché vi ripeto ci sono eventi dove non riuscirei ad andare neanche io quindi che per ora deambulo tranquillamente ecco in questo caso poi c'è un volontario con due belle braccia che era un po' leziotto è andato ha preso la ragazza in braccio e l'ha portata alla sedia però prevedere invece prima cosa può succedere e a che cosa si può porre rimedio con degli ausili semplici questo è un modo per avere un'attenzione per quanto invece riguarda il discorso che le domande che mi sono state poste all'inizio vorrei che per un momento noi le mettessimo su due piani differenti un conto sono l'abbattimento delle barriere architettoniche questa amministrazione avrete visto è sensibilissima al problema è iniziato il PEBA che è proprio questo piano di abbattimento delle barriere architettoniche è già finanziato per quanto riguarda il centro storico e quindi si sta procedendo dentro al centro storico piano piano bisognerà partecipare a bandi e ottenere il denaro corrente per arrivare a tutta la città ma delle volte in certe situazioni anche se l'evento si svolge in un luogo dove riteniamo che le barriere architettoniche non siano state del tutto eliminate quindi possono nascere delle problematiche è lì che dobbiamo inventare l'organizzazione dovrà trovare una soluzione oppure dovrà dire questo non è accessibile per questi motivi e le frasi che leggerete sono in questo senso però vorrei che non confondessimo i due piani uno è proprio un piano di attenzione nei confronti di queste situazioni da parte di tutti l'altro è un piano diverso dove si sta agendo in modo differente e su altri livelli ovviamente io avrei finito anche per non tediarvi troppo ma sono qua a disposizione e ora se tolgo l'audio forse riesco a farlo bene grazie assessore allora su questo come giunta volevamo fare alcune osservazioni perché chiaramente ci ritroviamo ad affrontare delle realtà che sul territorio non hanno queste grosse risorse né organizzative né finanziarie perché effettivamente a noi il discorso piace molto se riguardasse un evento organizzato dal comune o anche dal municipio per quanto noi siamo anche noi limitatamente insomma abbiamo poche risorse anche noi però potremmo potremmo anche condividere pienamente questo tipo di discorso cosa un pochettino differente e molto più preoccupante nel momento in cui l'andiamo a buttare sul territorio con delle associazioni di piccole entità lei ha fatto l'esempio del libro può capitare una piccola associazione presenti un libro chiaramente le caratteristiche che lei ad esempio ha esemplificato cioè mettere di video in cui viene proiettata un pian terreno l'evento a questo punto per i non utenti mettere qualcuno che abbia le capacità dell'alfabeto per i non utenti insomma è una cosa che complessivamente avrebbe dei costi difficilmente affrontabili da realtà territoriali piccole ripeto è un un obiettivo che noi condividiamo cioè la massima sensibilizzazione e chiaramente spingere il più possibile a diffondere qualsiasi tipo di evento per qualsiasi tipo di cittadino quindi è chiunque abbia problemi di qualsiasi tipo non deve avere nessun tipo di barriera però è chiaro che un discorso è sensibilizzare un discorso è porre dei limiti molto 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 rigidi per esempio noi siamo preoccupati da un po' per quanto riguarda il decreto sicurezza e per quanto riguarda la certificazione durante gli eventi del tutto quello che riguarda la sicurezza ha dei costi perché va certificato da un tecnico abilitato che come minimo richiede 400 euro è uno sforzo economico che su realtà grandi pesano ma su realtà piccole come spesso ci troviamo noi a condividere quotidianamente invece hanno un peso non febbre rendiamo conto che la maggior parte delle volte quasi sempre la totalità delle volte gli eventi sono gratuiti infatti le associazioni che senza scopo di lucro che vivono di volontariato caricarli di costi tutte le volte per noi diventa un problema quindi ho fatto l'esempio perché già affrontato per quanto riguarda i piani sicurezza andiamo a discutere adesso di un ulteriore aggravio di spesa chiaramente nella finalità è correntissima ho messo carta è perfetto poi a lato pratico noi la vediamo un pochettino complessa complessa è quanto rischiamo davvero alle piccole realtà di non dare più nessun tipo di patrocinio di supporto perché vincolati da regole che ci siamo ci siamo dati quindi per noi è più una riflessione una riflessione comune che vorremmo fare con voi perché se a livello centrale magari avete anche le possibilità di contribuire in qualche modo a quelle che sono le spese ulteriori noi ci troveremo in grosse difficoltà quindi un invito a riflettere su questo quindi di strutturare la proposta incentivando sicuramente l'adesione a questa cosa quindi a indicare sicuramente le problematiche che si possono affrontare insieme per esempio mi viene in mente che anche la presenza a questo punto di un bagno per disabili in una struttura dovrebbe esserci perché se consento l'accesso devo consentire anche il tipo di servizio questo lo vedo ulteriormente una complicazione effettivamente se io ti faccio giungere al secondo piano al primo piano per aggiungere una struttura dove poi non c'è la possibilità di avere il bagno per disabili a questo punto ritorniamo alla problematica di prima dove lei giustamente ricordava ci si arriva poi non puoi accedere all'evento a questo punto ci si arriva ma a questo punto non ti posso dare nessun tipo di servizio e quindi a un evento che dura mezza giornata tu non puoi accedere dal servizio diventa una cosa che da giustificare da far combaciare e da fare eccezioni diventa complessa questa è un po' la preoccupazione della giunta municipale Presidente Romanengo ho qualche consigliere io Presidente avrei fatto un'osservazione relativa proprio sottolineando quanto espresso già dalla giunta e come effettivamente poi abbiamo già scritto nell'osservazione quindi lascerei la parola ad esempio al Consigliere Ghisolfo che si è prenotato Consigliere Ghisolfo fa la parola Grazie Presidente allora buongiorno Assessore Consigliere Ghisolfo con delega all'associazionismo e Presidente della terza commissione io sottoscrivo in pieno le come dire preoccupazioni anche poc'anzi espresse dal Presidente del Municipio da parte della giunta nella mia esperienza di questi anni specie nel nostro Municipio noi abbiamo a che fare per l'appunto non con realtà associative di grandissime dimensioni dove come dire c'è anche una struttura organizzativa interna di supporto magari con uffici legali uffici amministrative e così via molto spesso parliamo di associazioni molto piccole che compose da volontari che magari lavorano e impiegano il proprio tempo personale il proprio tempo privato per fare attività dell'associazionismo in questi ultimi due anni tra sicurezza e covid per la mia poca esperienza che banalmente camminando per strada guardando io posso dire che tantissime realtà come dire hanno smesso di fare attività associativa o banalmente anche di chiedere patrocini perché erano c'erano delle indicazioni stringenti che appunto una piccola realtà associativa non è in grado di supportare stare indietro io per la mia esperienza associativa ho avuto anche la fortuna di essere presidente di associazione io faccio l'esempio della locandina che è l'osservazione che io ho tirato fuori la locandina per assurdo è uno degli aspetti più complicati di un evento perché molto spesso non c'è neanche lo spazio fisiologico per mettere dentro delle informazioni io faccio l'esempio di una locandina magari che mette insieme una rassegna dove ci sono 50 eventi faccio adesso un esempio più tanto per rendere e inserire nella locandina anche quella informazione quando magari c'è già il logo del comune ci devi mettere che è un ingresso libro ci devi mettere che magari l'ente pubblico ti ha dato il soldo diventa estremamente complicato magari io suggerirei al comune magari poi su questo può parlare la collega Carrero che è più sul pezzo di me prendere ispirazione dai paesi bassi dove è previsto un logo proprio per quegli eventi diciamo a misura di disabile che sarebbe magari una cosa più idonea su una locandina perché magari è una cosa che come dire non è di immediata percezione però la locandina lo spazio è limitato quello è e quello puoi usare e non è che puoi metterci l'infinito modo di informazioni perché viene meno una delle prime regole che è la legibilità e l'immediatezza dell'informazione diverso se fosse una brochure un evento facebook dove ci puoi scrivere tutto quello che vuoi quindi io su questo aspetto qui chiederei attenzione magari appunto la collega Carrero può entrare più nel dettaglio sull'articolo 33,2 mi faccio un po' il sindacalista delle associazioni è vero nel 2021 dovrebbe essere un gesto di civiltà il fatto che un cittadino disabile possa partecipare ad una manifestazione come qualsiasi altro cittadino dell'universo mondo però è anche vero che nell'applicazione di queste proposte che verranno in essere gli uffici io penso più a livello comunale perché a livello municipale io conosco chi lavora e vedo che si fa in quattro e cerca di venire incontro come si può ma a livello comunale io spero che si cerchi da parte degli uffici di essere come dire il meno ufficio complicazioni affari semplici ecco perché molto spesso su una cosa che basterebbe utilizzare il buon senso perdiamo dei mesi per uscirne quindi a me più che altro non è tanto quello che viene scritto nella riforma in sé che preoccupa quanto poi la concreta applicazione da parte degli uffici centrali quindi ho fatto un po' il sindacalista dell'associazione perché io provengo da quel mondo quindi è una realtà che conosco molto bene qui bisogna contemporare due esigenze il diritto del cittadino disabile giustamente di poter partecipare alle manifestazioni ma dall'altra anche prendere coscienza che non tutte le associazioni sono in grado di avere una struttura organizzativa da poter stare dietro tutti quanti adempimenti quindi dobbiamo cercare un pochettino di bilanciare le situazioni io presidente lascerei la parola alla collega Calero per quanto riguarda la questione dell'oro abbiamo superato i tempi consigliere Carero aziono il video per educazione allora sì prendo spunto appunto dal mio collega Ghisolfo per dire che ho fatto alcune ricerche nei Paesi Bassi soprattutto ad Amsterdam loro usano nella locandina il simbolo diciamo della carrozzina per indicare che quell'area è accessibile al disabile o al diversamente abile come lo vogliamo chiamare oppure a una persona che magari in quel momento anche ha delle problematiche come ho detto prima se uno si rompe una gamba almeno ha la possibilità di vedere se è possibile quell'area oppure no questo perché avevo fatto alcune ricerche quando appunto mi è arrivato il discorso del parere e aggiungo altro che anche io sono dell'idea che bisognerebbe tutti quanti cercare di rendere accessibile ogni spazio per ogni manifestazione o ogni evento però mi rendo anche conto come dicevano prima che esistono nel territorio delle realtà piccole e che quindi ci sono varie problematiche nient'altro volevo soltanto aggiungere questo discorso qua del logo grazie grazie consigliere Carvero consigliere docente grazie buongiorno assessore sono assolutamente d'accordo e sottoscrivo tutti i presidenti in qualche modo che hanno parlato prima di me e sì perché poi abbiamo paura che queste piccole realtà pian piano come dire gli scappi la voglia perché in verità c'è già questo obbligo l'articolo 20,3 prevede che devono essere accessibili i luoghi degli eventi o avere un supporto per avere i cosiddetti oneri si alza un pochino più la sticella perché anche per avere i patrocini i cosiddetti non onerosi si chiede questo tipo di intervento però in verità se forse mi corregge l'aggiunta se sbaglio anche il patrocino cosiddetto non oneroso da un qualche cosina a queste piccole associazioni mi sembra per esempio gratis lo spazio dell'uso pubblico e altre piccole agevolazioni perché forse io avevo chiesto che ci fosse anche un confronto con la consulta handicap che forse si poteva proprio confrontare con queste piccole realtà capendo che fondamentalmente sono dalla stessa parte diciamo della barricata delle fragilità perché tante volte queste piccole associazioni i primi di cui si occupano sono tutti appunto le fragilità le disabilità perché in questo punto dovrebbe essere il primo il comune a rendere accessibile le proprie piazze i propri locali c'è una legge fin dal 1991 una legge regionale che obbliga il comune a sanziare una quota di oneri di urbanizzazione a questa volta perché con questo termine arriviamo al paradossale di avere la sala del maggior consiglio che è la sala clou delle istituzioni di tutta Genova che non è accessibile perciò adesso le associazioni che la vorranno usare dovranno attrezzarsi di qualche d'uno anche che fa un po' da mi permette il termine da camalli ed è il simbolo più grottesco del rimbalzo di responsabilità cioè la sala centrale del comune deve essere in qualche modo resa accessibile da parte delle associazioni ecco sarebbe un segnale importante sarebbe che il primo il comune si adottasse in questo senso grazie grazie consiglio lucente qualcun altro giusto per sostenere consiglio lucente giustamente parlava di gratuità degli spazi anche quelli vengono considerati comunque onerosi nel senso che alla fine viene dato come servizio quindi come oneroso quando si tratta di non onerosi proprio dato solamente il logo è una partecipazione morale all'evento non viene dato nulla viene svolto in sede privata o in sede pubblica pagata privatamente dall'associazione dove proprio viene dato solamente l'uso del logo a modi con partecipazione morale all'evento per il resto viene considerato comunque onerosi anche se non ce ne sborso diretto e qualche altro consigliere se no darei la parola all'assessore eccomi allora i discorsi sono un po' quelli che abbiamo fatto fino adesso perché riguardano quelle osservazioni che inizialmente il presidente aveva elencato quindi che sono sicuramente le vostre osservazioni io vi chiederei però di fare uno sforzo e di tenere diviso il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche da questo del patrocinio io ho per rispondere all'ultimo intervento non mi ricordo il nome mi scuso dell'assessore o consigliere intervenuto ecco sulla situazione legata di nuovo alle problematiche relative alle barriere architettoniche a luoghi non accessibili non è devetto che dobbiamo prevedere che quei luoghi siano utilizzati per quel tipo di evento se decidiamo lo scopo lo leggete nel comma 7 che dice ogni documento illustrativo dell'iniziativa deve contenere queste indicazioni quindi questa attenzione al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile se quell'evento si può svolgere in un luogo più accessibile bisogna cambiare luogo oppure se non è possibile chiedere un patrocinio a questo punto economico specificando le motivazioni per cui deve essere svolto in quel luogo e per renderlo il più possibile accessibile a tutti deve essere quel tipo di luogo che ha bisogno di questi interventi e lo si specifica nella relazione altrimenti l'evento non si può svolgere ma io vi assicuro perché ne vedo veramente tante di queste richieste di patrocino anche in modo insomma un po' eccessivo comunque da tutte le parti anche da chi non ha i requisiti previsti da questo regolamento oppure chiede il patrocinio dove la stessa cosa vi ho fatto l'esempio del traguardo che era in cima alla scala dove proprio nelle piccole cose si può trovare una modifica se non è possibile nelle piccole cose dopo aver cercato luoghi più accessibili e all'interno del comune di Genova ce ne sono tanti accessibili e allora a quel punto si chiederà un contributo spiegando tutte le motivazioni ed è questo il perché si è lasciato ampio spazio alla fantasia dicevo degli organizzatori a trovare soluzioni per rendere l'evento il più accessibile possibile che poi dovrebbe essere uno scopo comune anche a chi organizza l'evento cioè è importante che arriviamo a tutti soprattutto per le associazioni soprattutto per le associazioni che si occupano di disabilità ecco volevo tranquillizzare il consigliere perché io ho sentito e ho scritto questo parola per parola queste modifiche con la consulta dei disabili sia del comune di Genova che della regione di Guida grazie e qualcun altro? eh sì anche il presidente Romanengo certo però attendo consigliere Maione ho letto che non aveva ritorno ma voleva intervenire o ha solo un problema di no no era un problema audio sono dovuta riuscire a rientrare ci sono tutto a posto Presidente Romanengo vedo se riuscite a vedermi quando ho fatto per questo ma si spegne si grazie allora ah perfetto va bene allora in realtà chiede separare il concetto del patrocinio rispetto a quello delle barriere architettoniche che trova sì un senso teorico ma non troppo un senso pratico proprio per le motivazioni espresse dal presidente Karatou per cui non si tratta unicamente di barriere architettoniche ma si tratta di una serie di profili pratici che più di tanto non possono probabilmente essere separati dal almeno stando alle attuali parole del regolamento cioè delle modifiche proposte più di tanto sul fronte pratico non possono essere separate io proporrei al consiglio tutto di dare un parere che ogni gruppo valuterà se è positivo o negativo cioè se è un parere favorevole o contrario per quanto riguarda il nostro gruppo il parere lo dico già da parte del gruppo partito democratico sarà favorevole ma di formularlo con una serie di osservazioni che proporrei quelle espresse in sede di commissione che sono già nero su bianco e che credo raccolgano il consenso da parte di tutti i consiglieri a cui aggiungerei e qui è la proposta proprio relativamente al fine del regolamento che l'assessore ha detto per garantire la più ampia partecipazione possibile ma inviterei l'assessore a introdurre delle specifiche a questa frase nel quale ad esempio la più ampia partecipazione possibile relativamente al luogo indicato per l'evento dove non vi siano altri luoghi che garantiscano una partecipazione maggiore perché altrimenti così come formulato nell'attuale testo da adito a numerosissime confuse interpretazioni che possono creare non poche complicazioni quelle complicazioni che sono state precedentemente indicate quindi se proprio una chiave di interpretazione di tutte le norme inserite nel regolamento come dice l'assessore sono la chiave diciamo interpretativa è quella della finalità del regolamento quindi diciamo un'interpretazione teoreologica ecco che allora questo fine del regolamento forse potrebbe essere specificato maggiormente in relazione ai luoghi in cui si decide di fare l'evento ecco io quindi proporrei al consiglio di formulare anche questo tipo di osservazione se è sottoscritta anche dagli altri gruppi sì dunque la giunta è d'accordo con la risposta del presidente della commissione e quindi esprime la propria posizione favorevole con le osservazioni appena fatte dal presidente Romani qualche altro consigliere chiede intervenire bene allora io metterei in votazione con la chiamata nominale così come definita dal presidente quindi il voto è favorevole con le osservazioni se no contrari ovviasterete allora cara tu favorevole Belgrano favorevole Bellomo non c'è Bellotti Carrero favorevole caso caso Cavalleri favorevole urtazionato via Davide Davide favorevole Flaminio favorevole Isolfo favorevole Grasso favorevole Logiacco favorevole Lucente favorevole Machi Machi Avanti Maione favorevole Marziano favorevole Palomba Favorevole Pontillo Favorevole Romanengo Romanengo Favorevole Scusate non uscivo Luzio Livieri Sì sentiamo Favorevole Zanone Favorevole Allora richiamo caso caso mi sente e Machi Machi Favorevole Favorevole Machi favorevole ok caso mi risulta sempre non udibile benissimo grazie allora a questo punto possiamo salutare ringraziare l'assessore Rosso la dottoressa Gallo grazie davvero grazie presidente grazie a tutti arrivederci buon pomeriggio grazie ancora grazie presidente Romanengo allora a questo punto andiamo al ritorniamo al punto 3 che è la presa d'atto della deliberazione della giunta al consiglio che avevamo approvato il 7 luglio 2021 la giunta comunale ha restituito l'atto col parere favorevole quindi il presidente Romanengo è da inserire all'interno del nostro regolamento perfetto grazie presidente proporrei come sistema di votazione di vedere se unicamente vi sono dei contrari già che la prima volta è stato dato parere unanime certo perfetto qualcuno esprime parere contrario nessuno allora la consigliera Belgrano è uscita quindi immagino non partecipi al voto e tutto il resto è favorevole benissimo grazie allora andiamo al punto scusi il disturbo purtroppo per devo mettermi in viaggio e devo lasciarvi anch'io sono rimasto giusto per le cose che avevo diretto compito ma purtroppo vi devo salutare e mi spiace che alla fine anche la consigliera Belgrano ha dovuto andare via quindi di rappresenza del gruppo purtroppo non ci può essere nessuno mi spiace molto però non posso fare altrimenti buon viaggio grazie consigliero Romanengo grazie di tutto a presto Presidente mi perdoni anche io ho bisogno di salutarvi grazie consigliero Rivieri grazie buona giornata a tutti ci siamo allora abbiamo il punto 6 l'approvazione dei verbali del consiglio del 27 luglio se nessuno ha nulla il contrario darei come voto unanime favorevole all'approvazione dei verbali qualcuno chiede intervenire su questo ok unanime interrogazione interpellanze abbiamo la mozione sulla distribuzione gratuita dispositivi protettivi via respiratorie di linea condivisa consigliere Palomba grazie presidente penso che la mozione era del consigliere che adesso non c'è penso che sia stata discussa in commissione era stata presentata da da lui che però adesso è uscito se non sbaglio la presento io però ripeto credo che sia stato dato un parere già in commissione ah perdonate mi sono saltato fumato le interrogazioni interpellanze scusate che è il punto 7 abbiate paziente scusate ma mi sono perso le emozioni le scusate interpellanze allora abbiamo l'interrogazione a risposta immediata a cestini rifiuti prossimità fermata mt del consigliere chisolfo consigliere chisolfo la parola grazie presidente ma velocemente più che altro per far capire ai colleghi allora mi riferisco in particolar modo a due cestini posti dalla fermata mt uno in via spinola direzione a salire e una dalla fermata l'ultima fermata in via napoli direzione centro ora a qualche consigliere potrà dire ma a che punto siamo arrivati che per esempio le interrogazioni sui cestini allora perché rientriamo nel solito discorso che ho fatto nell'espressione di sentimento allora il povero consigliere chisolfo il 27 maggio vede che ci sono dei cestini abbandonati per terra e cosa fa da povero persona che passa segnala guardate che ci sono i cestini per terra il 23 di giugno quindi quasi un mese dopo amiu monta l'anima loro mi rispondono dicendomi che aperte le violette l'inferimento alla vostra segnalazione si informa che i cestini in questione sono stati rimossi dal personale mt che ha provveduto a ridipingere relativi pali non appena possibile vedremo di ripristinare la situazione unendo i suddetti anche quelli di corso dopo di via costanzi ora siamo al 20 di settembre i cestini sono ancora messi non posso dire il termine perché sarebbe poco consono per questo municipio però sono stati fissati probabilmente da mani pietose con delle fascette nere di plastica in maniera assolutamente inadeguata perché addirittura per non cadere ovviamente non essendo fissati bene con dei bulloni ma sono stati posti sopra i muretti nelle vicinanze quindi la mia domanda è di conoscere la data nella quale si provvederà a collocare mi riservo un commento all'esito della risposta grazie consigliere Ghisolfo buongiorno rispetto all'interrogazione rispondendo rispondendo sia tramite il cellulare che tramite il sistema del presidente scusate allora rispetto all'interrogazione in oggetto AMIO ci crea comunicazione che provvederanno al più presto senza indicare una data precisa contattati per le vie brevi faremo un sollecito anche scritto dal momento che giustamente il Consiglio ha rilevato come ci sia questo mancato ripristino ormai da un tempo diciamo eccessivo rispetto a dei tempi ragionevoli ragionevoli pertanto procediamo un sollecito per quanto comunicato per le vie brevi avvenga in tempi effettivamente rapidi rapidi intendiamo nel giro di auspichiamo di uno di settimana ecco questo è il nostro auspicio comunque ci attiviamo in tal senso con AMIO grazie assessore grazie ma come al solito la mia non mi ritengo soddisfatto dalla risposta certamente non è colpa sua perché non è colpa sua io l'ho già detto più di una volta che non mi si sentirà mai dire niente contro l'assessore grazie perché ne conosco l'impegno però è il discorso di prima è imbarazzante cioè il 27 di settembre saranno quattro mesi che ho fatto quella segnalazione ora se ci vogliono quattro mesi per ricollocare in maniera adeguata dei cestini io mi domando cosa dobbiamo fare per tutte le restanti iniziative ora come al solito abbiamo tanti dipendenti che si impegnano fanno anche molto più di quello che dovrebbero però abbiamo anche tanti dipendenti che mi dispiace cadiamo veramente su delle bucce di banana adesso penso che io già tanto se tengo una cazzuola in mano però non credo che ci voglia particolare complessità a prendere un cestino mettere due boloni e bloccarlo quindi la ringrazio per la sua attenzione che vorrà porre assessore grazie allora abbiamo stato di salute alberatura di Amore Giaspino ha sempre consigliere Ghisolvo credo che sia mia perché ho un audio pessimo ho sentito Ghisolvo penso che sia l'altra mia interrogazione brevemente allora è la nosa questione delle alberature di Ghispino ma non può riaccontarla nuovamente come ben sapete ci sono stati numerosi interventi nel corso degli anni adesso mi faccio carico in particolare di un'alberatura di Umelo che è posto nelle vicinanze del civico 15 rosso che allo stato attuale guardando tutte le alberature che sono presenti nella via è l'unica che sta manifestando dei sintomi di malessere quindi volevo conoscere lo stato di salute dell'alberatura e le eventuali iniziative che verranno poste in essere mi riservo di specificare ulteriormente all'esito della risposta grazie Assessore Grasso Consigliere Ghisolfo mi perdoni sulle risposte del Consiglio di Erno abbiamo preso in carico la richiesta che assolutamente abbiamo già trasmesso non appena protocollata ad Aster settore verde pervenuta con un margine di una settimana diciamo Castelverde ha preso in carico la pratica ma deve ancora predisporre le verifiche necessarie sui terreni VTA per capire quelli che possono essere le ragioni del mancato attecchimento dell'alberatura presso il civico 15 rosso chiederemo ad Aster questo intervento al momento stiamo muovendo Aster su molti interventi che della programmazione ma assolutamente chiederemo che nelle more degli interventi che vanno ad attuare da qui a dicembre cioè nelle more gli interventi che stanno rispondendo da qui a dicembre ecco che venga attivata una verifica su questa alberatura già in sede diciamo in sede immediata parallelamente agli interventi invece non tanto di verifica ma di votatura che stanno avendo luogo in particolare ecco può essere verosimile che questo possa avvenire nel momento in cui in parallelo con eventuali cioè non tanto la verifica ma eventuali interventi che poi possono essere racchiusi nello stesso momento in cui verranno effettuati gli interventi sull'alberatura di Via Napoli e sulla zona di Reggina previste Napoli di Armazione e ripeto semplicemente ecco la dove per tutta se ci saranno interventi verranno accorpati in quella sede non appena ci perviene risposta invece sullo stato comunque dell'alberatura se sarà necessario o meno effettuare interventi da parte di Einstein facciamo per rinunire la risposta anche ovviamente con una schede grazie la ringrazio sulla fiducia perché ho fatto veramente fatica a sentire l'audio probabilmente è un problema sempre di questo mio computer che sto usando però per quel poco che ho capito anche in questo caso non mi ritengo soddisfatto non per la risposta da sua ripeto massima stima nei suoi confronti ma anche in questo caso da una nostra partecipata Aster che mi dispiace con il quale con cui non vado d'accordo perché quando per avere un parere io penso ad una mozione che poi illustrieremo passano dei mesi mi dispiace tanto per dirle una cosa assessore io spero che sia un malessere passeggero di questa alberatura perché se fosse una cosa più grave tra l'altro invito a passare perché si può tranquillamente vedere che un ramo è già completamente secco perché senza poi è da parecchio tempo era una di quelle alberature che il sottoscritto che è laureato in legge però di una famiglia di matrice contadina quindi un pochettino dopo sugli alberi da frutta ce l'ho aveva suggerito di sostituire già nell'ultima sostituzione mi era stato rispetto dagli uffici che no non era da sostituire quando era un albero che si vede che non ha attaccato perché quando poi rimane uguale rimane uguale vuol dire che non ha attaccato per cui io spero come dire di aver preso un abbaglio completo io come consigliere ma qualora ci fosse un problema serio dell'attaccatura mi dispiace dover dire che l'avevo detto però nel posto competente dirò l'avevo detto grazie assessore mi perdono i consigli che solo non una difesa d'ufficio di Aster che non aspetta a me però dall'inolto interagazione se non erro il 13 settembre o in otto giorni una verificazione alberatura salvo che non vi siano una manifesta situazione di pericolo di caduta immediata quindi di stile alberature che vengono classificate in classe D con gli otto giorni è probabilmente difficile che ci fosse una predisposizione dell'intervento e delle contestuali già risultanze detto ciò ad assicurarla come correrà avevamo in occasione della prima piantumazione il riferimento di terreni è stato fatto in allora comunque quanto sollevato è opportunamente sollevato è corretto e chiederemo la stessa di assorberla nel minor tempo possibile una settimana l'avrei vista dura comunque come tempo l'intervento però chiederemo la stessa di assorberla nel minor tempo possibile anche per giustamente evitare situazioni che poi col senno di poi qualcuno possa dire che era stata portata l'attenzione e non è stato non gli è succeduto un positivo intervento che avrebbe evitato situazioni negativo di eventuali danni o pericolosi grazie allora devo chiedere il rinvio dell'interrogazione del gruppo 5 Stelle su interventi genici direttivi anticomit presso Dino Camelot quando è arrivata il 14 e non abbiamo avuto ancora occasione con l'area tecnica di discutere dei tempi di intervento delle modalità come richiesto nell'interrogazione e invece per quanto riguarda il progetto accoglienza piano del consigliere Paloma con l'interrogazione a risposta scritta non è ancora arrivata la risposta del consigliere delegato Baroni però mi sembra giusto comunicarvi quello che so io della situazione quando sono stato chiamato dal consigliere Baroni per condividere una scelta per collocare una parte dei rifugiati afghani presso l'ostello sarebbero lutti i familiari e chiaramente che su un'opinione la mia opinione è assolutamente favorevole in quanto chiaramente la situazione degli afghani ma che ce la dobbiamo raccontare la conosciamo tutti benissimo e quindi l'urgenza di collocazione di questi che sono ben rifugiati direi proprio che sia una cosa da togliere come richiesta non siamo solo noi c'è una situazione parecchio diffusa sul territorio e chiaramente è una situazione delicata dove gli stessi ospiti hanno bisogno di una privacy maggiore di una sicurezza maggiore e quindi tutte le attenzioni saranno poste ovviamente e per i cittadini per i ragazzi per i bambini dell'asilo e chiaramente per le famiglie afghane ospitate e ad oggi non sappiamo come verranno ospitate quali saranno i progetti su queste persone sappiamo ovviamente che come rifugiati avranno tutti i diritti come tali e le famiglie chiaramente i bambini seguiranno tutti i percorsi educativi che sono previsti quindi assolutamente su questo c'è massima attenzione vedremo gli sviluppi ma il mio parere è stato assolutamente favorevole e poi ovviamente i dettagli arriveranno col tempo e quando un consigliere barone risponderà ufficialmente girerò la risposta al consigliere palomba che ha fatto questa interrogazione mi sembrava giusto anche che metterà al corrente il consigliere di quello che potrebbe accadere a breve proprio allo sterico dunque ho un interrogazione invece sui interazzamenti di amministrazi sono perso l'assessore grasso al quale do la parola prima scusa il consigliere palomba che ha fatto un'interrogazione sì devo devo leggerla signora ma non è quello è per avere le nostre statistiche mi rispondi Andrea mi rispondi tu grazie grazie buongiorno consigliere palomba mi sente ora sì ok allora abbiamo preso visione dell'interrogazione l'area belga attraversamenti diciamo dal civico 23 e anche le seguenti sono oggetto di verifiche sullo stato della proprietà in quanto scusate mi stavo recuperando ma eventualmente orti urbani stiamo facendo delle verifiche in realtà più che sull'intera area per capire anche qua viene evidenziata un'area da destinare a orto urbano ma ce ne sono anche alcune già destinate a orto urbano o meglio che fattualmente sono già utilizzate come orti urbani che dobbiamo comprendere se lo siano sulla base di un qualcosa di un'organizzazione del comune o se siano orti urbani diciamo connotati da un grado di abusività dell'area quindi ci sono delle verifiche in corso su quell'area dove chiaramente la volontà ultima poi è anche di non dico di andare a sanare ma che permanna a quest'area destinata ad orto urbano perché l'alternativa sarebbero poi delle situazioni stile alla scalpata quella che prima dell'intervento di via Balestrazzi quindi sicuramente andrà a favorire questo chiaramente bisogna però procedere a delle regolarizzazioni quindi sono in corso verifiche su tutte quell'area quei terrazzamenti e poi procedere una a uno dove sarà necessaria una regolare posizioni e dove invece se di pertinenza pubblica andare a destinare orto urbano la destinazione orto urbano chiaramente poi prevede come sapete un bando e determinati adempimenti da parte dei municipi in alcune aree sono state in regime di proroga come municipio dovremo poi per queste aree perché possono andare a bando a tutti gli effetti con il nuovo regolamento si necessitano alcuni adempimenti come predisporre dei sistemi di impianti di irrigazione e quant'altro quindi non sarà immediato l'andare a bando tra le verifiche in corso quelle assolutamente sì per poi la destinazione di questa natura grazie consigliere Paloma diciamo che la presente interrogazione si collocava nel più ampio argomento sul bandi appunto inerenti all'assegnazione degli orti urbani perché credo che nell'area insista un'altra strada con altri orti urbani eventualmente da assegnare via Montanari se non sbaglio esatto e quindi volevamo sostanzialmente avere più informazioni visto che alcuni residenti hanno chiesto la possibilità di partecipare al bando e comunque di ottenere uno spazio come orto urbano grazie presidente grazie assessore assessore grazie ovviamente quando verrà aperto il bando non verrà data la più ampia comunicazione perché anche nell'interesse di nostro quindi come verrà data diciamo che dovrà rientrare verosimilmente in un bando più ampio che comprende via Montanari via Maculano dove ci sono delle aree dedicate a verde urbano e dove chiaramente si dovrà ecco lì si è proteggendo più le proga poi si dovranno essere bandite e dovranno essere bandite anche via Balestrazzi che ad oggi ignoriamo la 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 stato della proprietà e quindi da qui le veri che stiamo effettuando però ovviamente l'idea è quella poi di andare soprattutto sull'area di via Balestrazzi di andare a bando e questa è la data più ampia comunicazione su via Montanari via Maculano ma anche quello che però vorremmo inserire nel bando è la cosa di mettere un qualche punteggio in più o comunque una penalità se possibile a chi ha tenuto cura di quelle aree fino ad oggi perché ad oggi se quelle aree sono manutentate positivamente è sì dovuto agli interventi che Aster effettua come una cadenza biennale ma è oggettivamente come da programmazione Aster ma è anche dovuto ai privati che tengono queste aree pertinenziali pubbliche come in maniera diciamo idonea e positiva quindi ecco anche la dove andassimo a bando su Maculano e Montanari cosa dovremmo fare però vorremmo inserire una penalità di questa natura anche per in qualche modo è stata apportata una positività sul territorio e riconosce questa positività apportata grazie grazie Allora andiamo alle mozioni abbiamo una mozione di rispiratorie del consigliere Palomba di mia condivisa come dicevo precedentemente la mozione era stata presentata dal consigliere Furtas che è uscito e vabbè la ripresento io io credo che la presente mozione sia stata già discusa in commissione giusto presidente Chisolfo Sì allora questa mozione l'avevamo discussa in commissione 3 prima dell'estate diciamo che nel merito non è che ci fosse tanto come dire problematica più che altro avevamo preso la decisione visto che non si capiva l'andamento della curva pandemica avevamo preso la decisione di rinviarla alla prima seduta di commissione di settembre adesso non mi ricordo se non avevamo parlato solo a giugno o già a luglio adesso ho un vuoto di memoria comunque abbiamo deciso di rinviarla alla seduta di settembre in base all'estate siccome questo mese non abbiamo fatto seduta di commissione perché abbiamo fatto seduti congiunte in ufficio in presidenza avevo proposto di portarla a questo punto direttamente in consiglio perché disputerla comunque l'avevamo discussa io come mio parere ovviamente di presidente personale quindi non parlo della commissione ma parlo a titolo personale io all'esito della situazione attuale io personalmente darei parere favorevole comunque siamo ancora in una situazione che le mascherine le stiamo continuando a usare l'igienizzante lo stiamo continuando a usare ed è tutto stato prorogato quindi all'esito pratico io personalmente darei un parere posso consigliere Palomba prego grazie presidente grazie presidente Ghisolpo allora sostanzialmente sono pienamente d'accordo con quanto asserito prima dal presidente Ghisolpo perché al di là della 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 situazione epidemiologica sono strumenti di protezione individuale che continuano che continueranno ad essere presumibilmente utilizzati ancora per molto tempo e di conseguenza è evidente che sulle categorie sui soggetti svantaggiati vi possa essere la necessità di un rifornimento su un rifornimento continuo sia di mascherine che eventualmente di gel di gel alcolico per la disinfezione delle mani ed era un po' quello che veniva veniva scritto nell'impegnativa e che recepisce un'esperienza che verosimilmente è già del comune di Milano e che vorrebbe essere ripresa anche qui nel nostro municipio o addirittura nel comune di Genova bene allora su questa mozione qualcuno chiede di intervenire qualcuno chiede di esprimere voto contrario di astenersi se no no come voto favorevole un'anime qualcuno chiede di intervenire di scrivere dovete pure ok allora voto un'anime favorevole leggo che ha chiesto la parola al consigliere Lucente sulle sue interrogazioni prego la parola grazie presidente quella rinviata io aspetto mi prevedo solo sottolineare che i due punti riportati penso che il più vicino abbia un'età di un anno dalle segnalazioni che sono state già protratte tra Aster e anche penso municipio comunque sicuramente direzione scolastica e invece la perdita d'acqua penso che sia vecchia di due anni quindi da due anni la segnalazione comunque aspetto sperando che comunque da qua l'interrogazione si muova qualcosa e in secondo il luogo dove va avanti una seconda interrogazione che era quella Ponte Donantogliacciaio e mancato intervento su date porzioni te le chiedevo ma non me la citate perciò le chiedevo con voi mi piace questa non ce l'ho questa seconda non ce l'ho proprio comunque vi chiedo e rinvi anche di questo e anche perché non saprei cosa risponde in quanto non ho letta mi spiace mi è arrivata protocollata recepisco mi auguro grazie bene andiamo avanti col progetto a Piari presentato dal consigliere Palomba la parola grazie grazie presidente anche qui dovrei recuperare la mozione ma vado un po' a braccio e anche questa mozione è stata discussa durante la terza commissione e se non sbaglio poi è stata rinviata si chiedeva sostanzialmente nell'impegnativa per non abborbare il consiglio di poter verificare l'opportunità di posizionare degli apiari sentito anche il parere di esperti apicoltori peraltro credo che ci sia un'esperienza simile nel municipio nel municipio di Molassano ora scusate non ricordo non ricordo mai se si tratta di Val Bisang dovrebbe esserci un'esperienza simile e si chiedeva se eventualmente si potessero utilizzare i parchi pubblici faccio un esempio su tutti quello del per alto per posizionare per fare un progetto di apiario urbano e poter poter fare poter fare produzione di miele anche sulla falsa riga di un progetto che è stato fatto proprio in un quartiere della città di Parigi e che viene citato all'interno della mozione ci rendiamo conto che sia un progetto forse un po' un po' troppo sperimentale anche perché ci vuole una certa distanza dalle abitazioni e comunque dovrebbe essere preso in carico da professionisti del settore però ci sembrava una bella proposta da fare anche per ravvivare i nostri parchi urbani grazie bene assessore grasso assessore grasso eccomi allora scusate che sono in collegamento non più dall'ufficio allora ma per noi la valutazione è favoribile anche per l'esavvisione della risposta dell'ufficio animali quindi riteniamo che la mozione sia condivisibile e che si possa con l'ufficio verde pubblico e l'ufficio animali procedere nella realizzazione di quanto richiede l'impegnativo bene presidente Ghislolfo sì grazie presidente allora come ha detto questa mozione era stata affrontata in diverse sedute di commissione poi ci eravamo fermati che quindi non c'era come dire nella commissione una posizione a prioristica negativa però aspettavamo il parere dall'ufficio competente comunale prima di poter procedere poi visto che questa mozione ce la stavamo trascinando da diversi mesi e mi sembrava nessuno tenerla ancora in commissione ho chiesto gentilmente di portarla direttamente in consiglio proprio per il fatto che è arrivato il parere dall'ufficio animale e poi mi è stato trasmesso dagli uffici io non so se qualcuno ha piacere che venga letto comunque il parere ecco perdonatemi chiederei al consigliere Ghisolpo nella sua veste di presidente se potesse anche a margine del consiglio più che darne lettura inoltrare quanto ho inviato dall'ufficio animali per prendere piena cognizione anche diciamo delle prescrizioni cioè in questo parere positivo proprio prendere cognizione delle prescrizioni che sono previste all'interno di questo parere ok allora gentilmente chiedo agli uffici del municipio se possono inoltre il parere a tutta la terza commissione detto questo quindi il mio parere personalmente è favorevole chiedo solamente due modifiche collega Palomba la prima nel testo della mozione perché viene riportato municipio sesto media valvisagna valvisagna quindi penso che sia quarta media valvisagna io non sapevo se era il sesto medio ponente o quarta media valvisagna ma visto che hai detto molassana direi che è quarto medio valvisagna quindi c'è una correzione formale Aspetti io ho dei problemi anche dopo dieci anni di consiglio municipale di individuare i municipi che non siano centro-oeste sono molto fazione campanirista e quindi potrei aver sbagliato ma nella citazione all'interno della mozione è sicuramente quella corretta perché quella l'ho studiata mentre adesso vado a braccio come spesso accadde quindi solamente questo municipio mentre il municipio qua non mi ha bisogno del testo all'incima e nell'impegnativa solamente togliere un inciso dove lei dice regolamentare l'affido dell'appiario urbano con un preciso regolamento ok questo pezzo lasciarlo ma togliere aperta parentesi prendendo spunto da quanto già realizzato dal municipio sesta media valvisagno toglio per due motivi uno per una questione di opportunità istituzionale perché come un municipio dobbiamo essere indipendenti da un altro la seconda è comunque visto che come è stato giustamente citato anche nella testa della mozione ci sono tante realtà che hanno dicicchiato questa questiosa non da ultimo anche il quartiere di Saint-Denis a Parigi lasciare la libertà poi ovviamente se il presidente di municipio è d'accordo potrebbe essere questo uno di quei progetti di commissione che si potrebbe portare avanti quindi io le chiederei solamente di togliere l'inciso nell'impugnativa dove si fa riferimento al regolamento nella base di San che mi rimasta per il resto per il parere favorevole è sulla osta per me quindi sono completamente d'accordo va bene ok posso mica presidente disfruttare vorrei penurare ancora di più la mozione che ha affidata con un parere favorevole dicendo che questo tipo di associazione che si occupa è un gruppo che raccoglie di 150 associazioni ma soprattutto gratis cioè loro fanno tutto questo in modo gratis penso che ci siano anche delle ahimè delle regole molto aperte per gli acchiari pensate mi sembra che debba essere rispettato solo 10 metri ma si potrebbe anche ridurre questo spazio con delle paratie di contenimento ma invece sono associazioni molto attente che anche pur facendo questo gratuitamente si dedicano al comune sempre in modo gratuito per tutti gli interventi che ci sono che si chiedono quando ci sono invasioni di api tante volte penso non gli sia stato neanche come dire ringraziato in questo senso e insomma mi sembra mi sembra importante che facciano qualche cosa di così bello anche completamente non a carico dell'amministrazione ma solo in qualche modo dando grazie bene scusi consiglio Lucene solo perché ho ricevuto la sua interlocazione ma è arrivata al 17 io le voglio bene lo sa però il 17 era venerdì oggi è lunedì la mia pazienza se non è mio va bene vi prendo il voglio bene come prima paraculo mezza giornata abbia pazienza ok però ce l'ho adesso ce l'ho e bene allora si possono dire parolacce presidente no ok perché vuole dire paraculo se non si può dire o non lo dico non si possono verbalizzare ma dire ok grazie mettiamo un po' di pepe ma non è parolacce da un cabaretista mandare all'ultima mozione anche poi chiudiamo il consiglio allora le proposte del presidente Ghisolfo sono state recepite dal consigliere Palomba che è il proponente quindi metterei in votazione la mozione darei come voto favorevole all'unanimità però chiedo se qualcuno è contrario qualcuno si astiene qualcuno si astiene qualcuno è contrario nessuno bene allora parere unanime favorevole poi siamo sulla mozione Dossi via Polleri presentata da consigliere Bellotti da tutti i gruppi ma la presentatrice credo sia lei consigliere la parola Sì buongiorno allora questa era una mozione che era stata presentata con l'idea di risolvere un problema segnalato diverse volte in diverse occasioni dal quartiere diciamo in diverse diverse modalità sia cittadini privati che l'associazione di quartiere che alcuni rappresentanti della scuola San Luigi dell'asilo San Luigi che hanno avuto proprio un incidente sull'attraversamento alto di via Polleri tutti questi hanno segnalato diverse volte un problema di sicurezza sui due attraversamenti che sono di via Polleri poi in realtà parlandone con altri consiglieri capogruppo in realtà gli attraversamenti pericolosi poi sarebbero tre cioè quello in corrispondenza di Vico Sant'Agnese con l'incorrispondenza della farmacia sulla curva di via Polleri la principale curva è quello diciamo tra la chiesa del Carmine Vico Sant'Agnese l'idea era di proporre dei dispositivi di rallentamento dei veicoli quindi dei dossi poi facendo alcune verifiche probabilmente quello che dovremmo richiedere è un impegno diciamo a trovare a ricercare a segnalare questo problema di sicurezza e poi a trovare delle misure che possano contemplare insomma la convivenza dei mezzi pubblici con questo tema della sicurezza e dei mezzi pubblici dell'ambulante con il tema di sicurezza in modo adeguato ecco e secondo la normativa quindi questa è la mozione io credo che ci sia abbastanza consenso da parte di insomma anche dei colleghi della maggioranza però lascio spazio agli interventi se ce ne fossero grazie consigliere Logiacco allora come sapete una delle mie prime emozioni è stata proprio quella dei dossi ero il consigliere dei dossi quanto è stato detto dalla consigliera Belotti appoggio a mille per cento questa idea l'unica cosa è il muro che si potrebbe trovare dalla municipale sul discorso degli autobus e delle ambulanze che i dossi sono sono banditi sono banditi a Genova ma sono e le trovi poi dalle dalle altre dagli altri comuni questa è una cosa che bisognerebbe anche un po' capire aspettiamo sempre vabbè appoggio tranquillamente questa mozione della dell'assessore Belotti e spero che si risolva come richieste scusami consigliere consigliere mi sono emozionato Paolo ti sei emozionato ma lo faccio volentieri sono un ragazzo debole sono un ragazzo debole grazie grazie presidente posso parlare a proposito dei dossi perdonatemi però prima di disertazioni sui dossi potremmo dare una risposta tecnica poi lascio l'assessore Zanoni assolutamente però poi esci un attimo più nel dettaglio tecnico un attimo l'assessore Zanoni poi va bene per quanto riguarda i dossi io mi sono fatta mandare tutto quello che è regolamentare eccetera è impossibile mettere i dossi artificiali perché comunque questi vanno solo messi nelle strade private nei condomini e non nelle strade pubbliche perché noi stiamo lavorando per poterli mettere davanti alla 10 dicembre che c'è una situazione abbastanza pericolosa io ho parlato con tutti e soprattutto il comandante mi ha detto che non non si possono mettere tanto che in questi giorni avremo una un sopralluogo per vedere come riuscire a fare ma sono in consiglio scusami non ho capito Andrea scusa Presidente non ho sentito si può procedere per far arrivare una risposta scusate perché a breve dovrò congiudarmi per andare un attimo in dettaglio della risposta Carlo termina pure termino? no no dicevo che comunque appena vedremo cosa si può fare con questi dossi vi renderò mi organizzerò in modo da potervi far sapere tutto quello che c'è da sapere però per adesso non si possono mettere Assessore Grasso Donatemi se non erro la mobilità rimane ancora una mia delega ad oggi detto ciò quindi ecco credo che senza ulteriori dissertazioni premettendo che tutte le proposte sono assolutamente positive vanno in un'unica direzione che condividiamo tutti i dossi non sono previsti da codice della strada per ragioni prime esposte tranne che nelle vie classificate come vie residenziali dove che presentano altre caratteristiche quindi non passaggio di mezzi pubblici e quant'altro ce ne sono due su Genova per classificare delle vie come residenziali occorre una delibera a livello comunale sono solo due su Genova stiamo ragionando di farlo di classificare via residenziali per esempio via Maculano che è un'ipotesi su cui stiamo riflettendo ma fino ad allora se no non possono essere apposti i dossi detto ciò entrando invece nel merito della mozione in discussione come avevo anticipato per i miei brevi alla consigliera Bellotti abbiamo già un test di ordinanza predisposto alla direzione mobilità che prevede l'installazione la tracciatura dei segnali segnaletiche orizzontali di preavvertimento di preavvertimento dell'attraversamento pedonale fronte del mercato del carmine che abbiamo richiesto con un atto di giunta che abbiamo votato tutta la giunta dall'unanimità ovviamente in quell'atto di giunta contemplavamo anche il secondo attraversamento di via Polleri questo mentre il primo attraversamento quello di via Brignone dei Ferrari fronte al mercato del carmine è già contenuto nel testo di ordinanza il secondo immagino io per una mera svista un mero errore materiale non è riportato per cui chiederemo l'integrazione nell'ordinanza per risposta a direzione di mobilità anche dell'attraversamento di via Polleri e di quello che segnalava ora opportunamente la consigliera Bellotti all'altezza di via di Sant'Agnese il comunque quello che volevo appunto dire la positività è che è già per risposto al testo dell'ordinanza dovrà essere firmato dal dirigente a direzione di mobilità dopodiché eseguirà la trasmissione dell'ordine dei lavori per la tracciatura di questi segnali di pre-avvertimento chiederei quindi io la mozione non ne chiedo il ritiro ma come ho detto a mi sento in passione a Bellotti ritengo che il consiglio di un voto favorevole a rafforzamento dell'atto di giunta presentato chiedere solo che anziché inserire la dicitura a un numero di dossi idoneo venisse riportato dissuasori di velocità idonei a garantire quanto segue il primo attraversamento diciamo è già previsto gli altri due chiediamo chiederemo integrazione alla prima assoluta giunta utile alla direzione mobilità di apportare questa questa ulteriore integrazione ecco questa è la situazione ospichiamo che avvengano i tempi più veloci possibili perché come rappresentato Mickey Volca con Sia Bellotti giustamente è un attraversamento che al netto della pericolosità che personalmente ritengo che sia che non siano gli attraversamenti che sia pericolosi ma il modo con cui si ci si pone la guida è altrettanto vero però che quell'attraversamento pedonale è interessato da un'elevata popolazione studentesca che sicuramente dobbiamo tutelare per una serie oltre al collegamento di un quartiere centrale della città anche interessato da un nuovo popolazione studentesca elevato basta pensare a tutte le scuole che afferiscono i miei dintorni di ogni ordine e grado ben indicazione aggiunta quindi grazie grazie assessore grazie di questa specifica che ovviamente accolgo con grande favore e quindi scusi la adesso a parte l'ordinanza quindi l'impegnativa verso di voi verso la giunta è quella di esplorare insieme all'ufficio mobilità diciamo gli strumenti più consoni che non saranno i dossi che saranno qualcos'altro che oggi non sappiamo giusto no saranno sarà sicuramente in prima battuta la segnalistica quella orizzontale di travertimento diciamo le bande a prima battuta saranno le bande verticali quindi alcuni metri prima dell'attraversamento pedonale sono quelle quattro bande verticali che rappresentano visivamente un anticipo di attraversamento prima dell'attraversamento e il triangolo rosso quello dell'attraversamento scuola invece no quello dipinto sulla strada quello possiamo andare a chiedere anche quello perché secondo me io copio solo quello che ho visto in Napoli attorno alla spinola perché era semplicemente quello che c'è sì sì possiamo prevedere nell'integrazione anche quello sicuramente io lascerei una dicitura anziché numero di dossi idonei o di suosori di velocità idonei e facciamo rentare in integrazione anche la richiesta di triangolo rossa sì perfetto grazie la parola sia il consigliere Palomba che la consigliera Carrero consigliere Palomba per cavalleria lascio la parola prima la consigliera Carrero consigliera Carrero grazie 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 Vincenzo grazie Presidente no volevo dire che io ero d'accordo su questo discorso degli attraversamenti pedonali tutti e tre tra cui avevo fatto appunto io lo chiamo via Polleri 8 perché davanti al Civico 8 che è molto pericoloso e anche gli altri due ovviamente pericolosi per la velocità delle macchine e non tanto per come diceva l'assessore Grasso per i pedoni e aggiungo questo che durante la seconda commissione noi avevamo fatto anche un documento che avevamo mandato alla mobilità sul discorso avevamo aggiunto questi attraversamenti pedonali qua dove non avevamo chiesto tanto i dossi quanto avevamo chiesto di potenziare la segnaletica proprio prima dell'attraversamento quindi ritorniamo al discorso dell'assessore Grasso di potenziare la segnaletica orizzontale magari anche verticale su quegli attraversamenti di tutto qui grazie questo è stato comunque perdonatemi la prima cosa che l'assessore Grasso ha ricordato cioè che la giunta farà in modo che tutte le emozioni votate perché si parla della mobilità votate in consiglio abbiano un rafforzamento con le decisioni di giunta in maniera tale che la mobilità le recepisca come input precisi quindi chiaramente pian pianino tutto ciò che ne va a recuperare sarà rappresentato in questo modo è stato fatto già passato ora il consigliere lo già lo ricordava quando ironicamente il scosso dei dossi però è stato fatto un lavoro sui attraversamenti più pericolosi che in circovalazione a Carignano e in maniera più visibile in Biassarotti con un potenziamento di illuminazione della segnaletica degli attraversamenti con la consigliere Bellotti si è affrontato già delle ipotesi che potrebbero essere messe in campo chiaramente sarebbe più semplice se poi come commissione si rifacesse un lavoro di indicazione precisa tenendo conto che tutto questo ha dei costi che le strisce sono un conto se si vuole fare un discorso di potenziamento di illuminazione di segnaletica verticale luminosa lampeggiante chiaramente più stringiamo e più è facile ottenere delle risposte positive quindi l'invito della giunta è in caso specifico ovviamente l'impegno di vedere tra segnaletica di tutta quella via e poi abbiamo visto che c'è un attraversamento che si potrebbe spostare quindi questo secondo me si può vedere globalmente però nello specifico dato che ogni tanto spunto da attraversamenti pericolosi vedere qual è la soluzione idonea tossi a parte perché come è stato ricordato il codice della strada è molto restrittivo su queste cose però ci sono altre soluzioni intermedie che magari possono in qualche maniera aiutare ad aumentare la sicurezza per i pedoni tutto qui comunque l'invito è chiaramente esprimersi in maniera favorevole è il motivo per cui il capigruppo si è pensato di inserirlo anche se non era passato ancora in commissione quindi direi che se non ci sono grazie colleghi di capigruppo anche scusi presidente se non ci sono pareri contrari o astenuti volevo volevo solo farò un appunto giusto mi scusi e niente presidente grazie si baccheremo volevo volevo semplicemente dire che Claudia e Andrea si ricorderanno che già precedentemente avevamo portato delle emozioni in merito ai dissuasori di velocità e segnatamente ai dossi ma io credo che fosse già nella precedente legislatura e anche in questa un indirizzo proprio della mobilità evitare l'adozione di dossi per non meglio precisato o almeno intuite da parte mia problematiche che poi si verrebbero eventualmente a creare con motociclisti non idonei a rispettare i limiti di velocità perché comunque se il problema sussiste nella zona indicata dalla consigliera Bellotti e per cui chiaramente voterò avrò parere favorevole però noi avevamo indicato già in precedenza la zona terminale di via del Lagaccio che è quella per intenderci che va la PAM che è veramente molto molto pericolosa rispetto ai limiti di velocità e quindi se si trovasse uno strumento condiviso come dissuasore di velocità indipendentemente dal fatto che si adotti nei dossi o meno sarebbe da attivare su diverse zone del quartile dunque a scanso di pivoli del municipio non perché dobbiamo difendere la mobilità con la quale non abbiamo sempre un ottimo però devo dire che il divieto di apporre dossi è del codice della strada è molto molto restrittivo quindi quello che ricordava l'assessore mi scusi presidente però quale codice della strada i dossi però sono adottati in tanti altri comuni scusate perché poi mi devo lasciare questa mozione però sono adottati i comuni che saranno classificate come residenziali in comunità ma due sono presenti ribadisco o qualcosa che si avvicina ai dossi è quello che c'è in via del lagaccio che non vengono considerati come tali perché sono dei piccoli rialzamenti con pavimentazioni che rialzano leggermente la carreggiata ma non sono i dossi che intendiamo noi ecco poi al contempo evidenzio che operazioni come quella del lagaccio possono essere effettuabili solo su vie con un con un transito lento chiamiamolo come via del lagaccio scusate scusate presidente posso fare una piccola dichiarazione per quanto riguarda quello che è stato detto prima all'assessore grasso volevo assicurare che non mi occupo sicuramente delle cose delle tue deleghe ma siccome davanti alle scuole mi sto occupando di questa cosa del marciapiede troppo stretto della pericolosità di uscita d'altronde eravamo d'accordo che me ne sarei occupata eccetera ho avuto la risposta per poter fare un dosso per poter mettere dei dossi archipigiani e ho solamente detto quello che avevo saputo io ma sicuramente non voglio assolutamente intromettermi nelle cose che devono fare gli altri allora perfetto dunque 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 abbiamo quindi il voto se non c'è nessuna espressione contraria o nessun astenuto dopo anche in questo caso come unanime il parere benissimo dunque siamo alla mozione sulla riapertura del teatro Carlo Felice sui 30 anni consigliere Chisolfo la parola io mi scuso col consiglio ma mi devo congedare se potete prendere nota del anche io mi scuso Paola Bellotti ma mi devo scollegare grazie saluto consiglio e un buono conclusione lavori altrettanto arrivederci vediamo sappiamo il numero però adesso non c'è il numero 11 io mi devo scollegare per una telefonata ma posso rimanere collegato se volete grazie il numero legale c'è il numero legale presidente c'è ricordiamoci che io sono insieme alla Pontillo quindi risulta collegato nemmeno ma in realtà siamo in 13 ditemi voi prego consiglio risolto consiglio risolto ok allora vado all'illustrazione allora molto brevemente visto la moria sarò molto veloce allora come molti voi sapranno il teatro Carlo Felice era stato parzialmente distrutto durante la seconda guerra mondiale vi tralascio la storia sulla difficile ricostruzione quello che in complete voglio dire è che nell'87 finalmente venne posta la prima pietra del nuovo teatro e arrivamo finalmente nel 1991 in particolare alla precisione il 18 ottobre 1991 che il teatro Carlo Felice venne nuovamente riaperto ci fu una nuova rinaugurazione dato che Carlo Felice è uno dei gioielli della nostra città ma in particolare del nostro municipio e occupa un posto di rilievo nel panorama culturale nazionale ed è indissubbimente legato comunque alla vita del nostro quartiere io molto semplicemente chiedevo di farci parte attiva presso l'amministrazione comunale finché proprio in occasione dei trent'anni venissero realizzate delle adeguate celebrazioni coinvolgendo il municipio e gli enti competenti ricordiamoci anche i teatri cinema sono stati riaperti quindi si può pensare a una qualche iniziativa coinvolgendo il municipio proprio per ricordare questo momento importante di uno delle appunto perle del nostro municipio grazie qualcuno chiede di intervenire nessuno allora metto in votazione la mozione allora se non c'è nessuno contrario considero favorevole l'unanimità qualcuno chiede di esprimersi diversamente e di no bene allora parere favorevole unanime questo era l'ultimo punto vi ringrazio ci aggiorniamo con i capigruppo presto e con tutti i consiglieri il prossimo consiglio che faremo tra circa la ventina di giorni grazie a tutti grazie buona serata buona serata a tutti buona serata a tutti ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti